Carrozzeria FB L'attività è nata molti anni fa dalla passione del titolare per le auto. La carrozzeria FB è specializzata nel restauro dei veicoli d'epoca e di auto americane degli anni 50 e 60. Esegue anche la messa a nuovo della tappezzeria con interventi su misura e il lavaggio con macchinari specializzati. Realizza verniciatura a forno di veicoli o ecologica ad acqua. Il ripristino carrozzeria per tutte le marche e offre assistenza nella compilazione di pratiche assicurative.